Il segretario tedesco Eh, che cosa? Le trattative Forse le piacevano Che cosa? I tortellini Le trattative Signore, signor segretario tedesco Ma chi vi ha messo tra i piedi? Che tenete tra i piedi? Che cosa? Non lo so Ma niente Ma cosa? Allora non siamo uniti Qua siamo spartagliando Ma curatevi l'udito Eh, sta bene l'udito Che cosa? Il dito Non la capisco, signore Il tedesco Lo conosce o non lo conosce? Ma che razza di tedesco è questo? Noi di quando ero bambino Oh, basta, basta, basta Sta bene Saku Sta bene Poi È E Con Ci Ci Grazie a tutti